buona giornata amici da massimo foghetti oggi è venerdì 22 aprile 2022 il 2 si ricorre abbastanza spesso in questa giornata una giornata piuttosto uggiosa vedremo poi le previsioni del tempo intanto iniziamo la nostra rassegna stampa a partire dal santo del giorno un santo un santo particolare che visse nei primordi del cristianesimo in terra d'egitto si tratta di san leonida di alessandria come il suo omonimo re spartano fu un valoroso combattente però per la sua fede cristiana tra l'altro era il padre di origine uno dei più noti e scrittori cristiani dotati di grande grande fervore fu martirizzato fu martirizzato sotto l'imperatore settimio severo durante la persecuzione in alessandria che era uno dei centri della cultura del mondo di allora dove era sorto il grande faro di alessandra un faro che illuminava non soltanto le rotte delle imbarcazioni ma illuminava anche il sapere degli uomini perché lì prosperò molto la filosofia l'astronomia insomma tutte quelle scienze che poi diedero origine alla anzi non diedero l'origine furono i prodromi della classicità tramandata poi dalla grecia e dall'antica roma vediamo ora le previsioni del tempo vediamo che il tempo è peggiorato e in queste ultime ore nubi in progressivo aumento con deboli piogge fino al pomeriggio poi ci saranno anche delle schiarite in serata i venti saranno al mattino tesi da sud ovest e al pomeriggio moderati da ovest sud ovest le temperature si mantengono piuttosto alte il vento è un libeccio quindi è un vento caldo che dunque si alterneranno dalle 12 ai 18 gradi 18 gradi è una temperatura piuttosto mite per quanto riguarda la primavera la prima pagina del resto del carlino questa mattina iniziamo con questo giornale la nostra rassegna stampa e vediamo che si parla della emergenza ucraina sono stati accolti nel nostro territorio 150 profughi in tutto l'ambito sociale numero 6 il numero sale a 278 di cui 140 sono i minori i bambini che frequentano l'asilo nido non pagano la retta c'è appunto un'assistenza particolare per quanti i bambini in tenera età sono pochi sono molto di più gli adolescenti quelli che frequentano le scuole medie le scuole superiori dunque emergenza ucraina vediamo qui la immagine del presidente dell'ambito sociale numero 6 e assessore al welfare di comunità per quanto riguarda il comune di fano dimitri tinti emergenza ucraina fano ha accolto dallo scoppio della guerra ad oggi 150 persone il numero sale a 278 di cui 140 minori se si considera tutto l'ambito sociale 15 gli inserimenti scolastici realizzati prima di pasqua i bambini che frequentano l'asilo nido a fano ricorda l'assessore al welfare non pagano la retta così come gratis l'uso della mensa e del bus del mezzo scolastico il mezzo per raggiungere la scuola quindi un'assistenza integrata per quanto riguarda questa presenza drammatica nel nostro territorio di tante persone che fuggono dalla guerra un altro articolo importante questo che viene pubblicato a fondo pagina nella prima pagina dedicata a fano dal resto del carlino è un'iniziativa di apito insieme a un al comitato di vivere il poderino la caritas diocesana e il paese dei balocchi una integrazione e cultura della pace al poderino verrà inaugurato il prossimo 26 aprile alle ore 16 tempo permettendo nella sede di via re di puglia uno spazio gioco appunto per i ragazzi in modo che possono integrarsi anche con i ragazzi del quartiere in modo che possono dimenticare almeno per qualche istante quello che accade nella loro patria insomma il gioco come uno strumento di carattere didattico ma anche come un mezzo per risollevare appunto questi ragazzi dalla tragedia in cui vivono i primi 30 anni della fondazione carifano è stato presentato ieri dal presidente della fondazione carifano giorgio gragnola una serie di eventi per festeggiare questo anniversario era il 1992 quando la fondazione carifano scorporò la banca la cassa dei risparmi adifano il nome ora è solo un ricordo in realtà la banca non esiste più perché ha avuto diversi passaggi di proprietà ora appartiene al credito agricol ebbene i primi 30 anni sono stati caratterizzati da tanti investimenti nella nostra città da parte della fondazione sono stati molti restauri sono state molte le opere che sono state realizzate da nuovo e quindi molti i servizi che sono stati aggiunti a quelli esistenti la programmazione degli eventi per festeggiare questo anniversario corrisponde a quattro giorni di attività dal 30 giugno al 3 luglio e verranno realizzati negli spazi che mette a disposizione la stessa fondazione come per esempio palazzo bracci pagani poi la penacoteca san domenico ogni giornata sarà dedicata ad un tema specifico storytelling start up social e sostenibilità con salotti di discussioni in cui saranno ospiti i big del settore come per esempio alessandro bonan volto di sky sport per la storytelling insomma un programma rivolto in modo particolare ai giovani ma con un occhio anche alle altre generazioni in modo che ci sia una collaborazione intergenerazionale appunto tra coloro che vivono a fano e amano la loro città seguono poi nel programma cinque concerti ma il numero potrebbe anche crescere che si svolgeranno dall'alba al tramonto nei luoghi e nei territori di riferimento della fondazione e poi il giornale parla di un'altra iniziativa parla di eutopia al via alla memo la rassegna che ha per tema il racconto eutopia è una iniziativa che è stata ideata dai ragazzi che frequentavano il liceo classico nolfi di fano ebbene poi ovviamente si è aggiunta l'amministrazione comunale insomma poi questa iniziativa si svolge alla memo e sarà una iniziativa che si svolge appunto nei prossimi giorni e ad aprirla sarà una visita alla sezione archeologica del palazzo malatestiano domani alle ore 17 insomma ci saranno tante iniziative che riguardano il mondo classico ma con uno sguardo rivolto anche alla contemporaneità variante gimarra in città piovono volantini l'obiettivo è svegliare i fanesi quello perseguito da tanto tempo dagli ambientalisti abbiamo appunto anche i residenti che si oppongono alla realizzazione di questa strada sulle colline di gimarra sono stati distribuiti addirittura oltre 20.000 avvisi casa per casa la protesta continua nonostante che ormai sia stata individuata anche la ditta che dovrebbe realizzare appunto i lavori realizzare il progetto e quindi l'amministrazione comunale procede per la sua strada la città è stata inondata di volantini contro la variante di gimarra nei giorni precedenti la pasqua ne sono stati distribuiti tantissimi casa per casa arrivando in tutte le famiglie l'obiettivo è quello di svegliare i fanesi e spingerli a capire cosa accadrà con la variante di gimarra insomma secondo gli ambientalisti la devastazione del territorio appunto che è ancora rimasto praticamente intatto e poi passiamo a marotta passiamo a marotta perché ritorna una iniziativa storica la sagra dei garagoi riparte dopo lo stop causato dalla pandemia due anni di assenza si sono visti hanno pesato e ora si riparte ma si riparte anche alla grande cinque giornate cinque giornate all'insegna del gusto delle tradizioni del divertimento e quindi è un'ottima idea che caratterizzerà il ponte del 25 aprile e anche quello del primo maggio tra i piaceri della tavola e poi la bellezza la bellezza di marotta del suo mare della sua spiaggia contando anche sul bel tempo la festa si snoderà nel cuore appunto di marotta tra piazza della unificazione il lungomare viale carducci ricco il programma in grado di soddisfare diversi gusti e non gastronomia con il chiosco dei garagoi in piazza musica animazione raduno di auto mercatini e tanto tanto altro ancora vediamo la pagina di urbino dove si parla del campetto di basket il campetto di basket di cui abbiamo parlato anche nei giorni scorsi il cui la cui pavimentazione è ridotta veramente in uno stato pietoso il comune ora interviene per ristrutturare la pista il sindaco promette interventi per la manutenzione di questa struttura sportiva e di altre strutture in via neruda l'amministrazione attende di vincere dei bandi pnrr per la totale ristrutturazione insomma si attende di avere quei fondi per poi intervenire e questo e questi lavori sono stati posti nella priorità degli interventi a ferminiano invece ritorna dopo due anni anche qui dopo due anni come per la sagra dei garagoi a marotta il paglio della rana la manifestazione sospesa nelle 2020 e nel 2021 si riaccende da oggi con i riti delle contrade è una delle più belle manifestazioni che si svolgono nell'entroterra pesarese e si ripete per una un lungo escursus storico ed è caratteristico questo questo modo di gioire questo modo di manifestarsi e con la con la cariola e la rana sopra cercando di portarla dentro la cari sopra la cariola fino al traguardo per tre giorni i rioni ma soprattutto il centro cittadino sarà caratterizzato dai costumi medievali tradizioni rinascimentali insomma si cerca di rivivere il passato con un occhio ovviamente alle presenze del turismo barricate contro l'accorpamento delle alimentari a borgo pace e a monte grimano terme il sindaco rossi non accetta la ventilata unione delle classi con mercatino conca come borgo pace anche monte grimano terme rischia di vedere trasferita a settembre la sua classe prima elementare per essere accorpata quella di mercatino conca borgo pace che deve andare a mercatello sul metauro mercatino scusate monte grimano che deve andare a mercatino conca insomma i ragazzi sono sempre più penalizzati per quanto riguarda la frequentazione delle scuole che dovrebbe essere un loro diritto primario e che dovrebbe essere anche predisposto in maniera molto molto agevole fanno grosseto l'umbria fa da sola l'assessore regionale dell'umbria ha annunciato che il governo ha autorizzato la progettazione definitiva dei lotti che rientrano nella sua regione insomma l'umbria va avanti invece le marche le marche aspettano le marche attendono ancora non si è deciso se fare due o quattro corsie e quindi la situazione langwe e roma e le altre città sono sempre più lontane vediamo anche le pagine pesaresi del resto del carlino a partire da una vicenda di una ragazzina ucraina che è affetta da diabete e in questo momento non trova le cure necessarie ha 12 anni è scappata con la madre da kremanciuk ha bisogno di cure particolari affetta da diabete si chiama margherita è malata da diabete da piccola e ha bisogno di aiuto di cure particolari è andata all'ospedale san salvatore di pesaro ma lì in questo caso non vengono praticate cure ai bambini ma ai ragazzi malati di diabete deve andare in ancona in ancona però ci sono dei problemi le cure vengono posticipate al 6 maggio non si sa se la ragazza potrà arrivare in salute fino a quella data e quindi chiede aiuto un appello alle autorità sanitarie perché ci aiutino ha detto la mamma se possibile ad abbreviare il tempo di attesa e ci supportino anche logisticamente per raggiungere ancona sembra una cosa molto molto facile raggiungere ancona ma per chi è scappato dalla ucraina senza nulla senza nemmeno una valigia ma soltanto un fagotto poche cose è difficile arrivare anche ad ancona e di qui l'aiuto anziana novax muore per covid i parenti chiamano i carabinieri era ricoverata a galantara si tratta di una donna di 83 anni di macerata le sue condizioni sono peggiorate improvvisamente è stata trasferita in ospedale ed è deceduta per polmonite bilaterale i familiari parlano di ritardo nel ricovero e quindi hanno sollevato il caso chiedendo una indagine per quanto è stato fatto turismo e sport per pesaro è una manna dal cielo l'adriatica cap turismo e sport a canestro con l'adriatica cap in titola oggi il resto del carlino scatta il torneo giovanile di basket che porterà a pesaro 160 squadre oltre 5.000 tra atleti e accompagnatori alloggeranno in 20 hotel veramente è veramente una risorsa grandissima questa gara sportiva coinvolgerà addirittura anche 30 palestre l'adriatica cap è una manifestazione laboriosa tra le più importanti del basket giovanile in italia che coinvolge giovani e giovanissimi insomma è una iniziativa importante sia dal punto di vista sportivo lo ripeto spesso ma anche dal punto di vista turistico e veniamo alla cronaca presa mentre ruba minaccia rappresaglie si tratta di una 25enne romena che era stata sorpresa a rubare all'iper rossini delle scarpe e dei capi di abbigliamento era stata scoperta aveva così minacciato anche il titolare dell'ipermercato dicendo che se l'avesse denunciata ai carabinieri avrebbe chiamato suoi 20 supporter che avrebbero disastrato tutto il locale procurando danni di milioni e milioni di euro poi ha minacciato anche i carabinieri che l'avevano portata in caserma insomma era una veramente una persona molto molto irascibile che comunque è stata fermata e arrestata le vittime non riconoscono la ladra di Rolex doppio furto ai danni di due uomini sotto accusa una 29enne però il confronto all'americana finisce senza il risultato sperato e la 29enne Zingara a quanto pare sembra che poi riuscirà a scampare dalla accusa anche se i sospetti gravano sulla stessa due notti da sogni all'hotel Excelsior di Pesaro poi la fuga senza pagare ebbene sotto accusa un cliente uno scruccone proveniente dal nord che però al momento è irreperibile si tratta di un uomo che ha soggiornato all'hotel Excelsior 5 stelle a sbaffo il cliente scruccone non ha pagato il conto di 365 euro e se ne è andato così sparendo non si sa più nulla di lui è però finito a Pesaro e dopo è stato ritrovato per insolvenza fraudolenta l'imputato si chiama Alessandro Vivenzi ed è originario del nord Italia insomma ed è davanti al giudice quattro percorsi sulla strada della liberazione è un articolo che anticipa la festa del 25 aprile giorno della liberazione, giorno della resistenza quattro percorsi sulla strada della liberazione è stata presentata a Pesaro la mappa intitolata in cerca di una storia è stata presentata in modo particolare agli studenti e ai ragazzi perché sappiano quello che è accaduto nel 1943-44 nella città di Pesaro un modo per far conoscere l'identità e le radici dei nostri luoghi far vivere a studenti le tappe della liberazione di Pesaro tramite quattro percorsi dentro la città è questo l'obiettivo di In cerca di una storia la mappa ideata e promossa dall'AMPI in occasione appunto del 25 aprile e a questo punto passiamo al Corriere Adriatico vediamo l'apertura dedicata all'inizio delle iscrizioni agli asili nido per i bambini di fascia di età da 1-3 anni poi abbiamo anche quelli che frequentano le scuole materne da 3 a 6 anni, due centri estivi per i bambini a sostegno poi a sostegno ai giovani ucraini che frequentano le scuole superiori tutte le notizie per quanto riguarda le escruzioni i tempi, le modalità, i punti di riferimento per i genitori che hanno necessità di questo servizio perché si svolgerà tra luglio e agosto un periodo estivo quando le scuole ovviamente sono terminate ma i genitori che lavorano hanno bisogno anche di sistemare i loro bambini e sistemarli in un luogo sicuro in un luogo dove possono integrarsi con gli amici dove possono divertirsi, passare del tempo e allo stesso tempo permettere ai genitori di continuare a sostenere il bilancio familiare superficie sintetica anche per il campo di Sant'Orso così come quello del Vallato è un impegno dell'amministrazione comunale se l'è assunto l'assessora allo sport Barbara Brunori per il supplementare del Montesi appunto nei pressi della scuola omonima violano le regole della caccia riabilitati tramite i lavori utili si tratta di alcuni cacciatori che avevano usato gli animali da richiamo in modo irregolare e quindi sono stati condannati a effettuare servizi di pubblica utilità in quattro prestano servizi all'Azur e alla mensa dei poveri e versano 150 euro agli animalisti come multa richiami per uccelli proibiti poi ci sono stati anche dei maltrattamenti verso le allodole costrette a volare legate a un filo per attrarre appunto altri uccelli quattro cacciatori sono finiti nei guai e hanno effettuato lavori di pubblica utilità per estinguere il reato la materia penale si riferisce alla legge che impone il divieto di abbattere, catturare o detenere specie di uccelli nei cui confronti la caccia non è consentita e quindi hanno in corso nei rigori della legge e poi anche il Corriere Adriatico parla delle iniziative della Fondazione per l'anniversario dei 30 anni dal scorporo della banca dicevo tante iniziative in modo particolare dedicate ai giovani a Fossombrone la fiera del patrono Sant'Ildebrando cancellata perché il commercio è in crisi Chiara Belli contro l'ex assessora che aveva così criticato questa iniziativa dell'amministrazione comunale per diamanti sono stati spesi 200.000 euro e incassati solo 8.000 quindi non valeva la pena di rifare questa iniziativa e poi vediamo ancora la pagina di Senigallia dove scatta l'operazione di bilancio per coprire le spese energetiche sono stati impegnati 900.000 euro dei 4,5 milioni dell'avanzo del 2021 serviranno anche per la cura del verde e gli eventi Senigallia è pronta a sostenere una variante di bilancio per investire quasi un milione di euro 900.000 dell'avanzo di amministrazione 4,5 milioni del 2021 per quanto riguarda l'aumento dei consumi di energia elettrica cura del verde e dei venti sono questi tre capitoli che ne beneficeranno di questi nuovi investimenti nella pagina di Pesaro del Corriere vediamo come si parla ancora dei lavori del sottopasso vicino alla ferrovia paletti e silenzi di ferrovia cavalca ferrovia in stand by è stato presentato dal Comune il nuovo progetto alle ferrovie dello Stato che insomma deve rilasciare un parere obbligatorio senza il quale il progetto non può andare avanti però questo parere tarda le ferrovie latitano e insomma questi lavori sono urgenti si allungano i tempi per la messa in sicurezza appunto delle cavalca ferrovia va meglio per il ponte dei Capuccini ma la situazione insomma viene messa in evidenza appunto dal giornale per la sua problematicità giriamo la pagina e vediamo che si parla dell'iniziativa sportiva dell'Adriatic Cup nozze d'argento con la sfida dei grandi numeri e sono veramente numeri importanti da domani a lunedì sul parquet 4.000 giovanissimi insomma da 4.000 a 5.000 i numeri variano a questo proposito 160 squadre 500 partite una vera festa per il basket area di sold out per l'accoglienza ponzoni macchina complessa e vincente anche qui si mette in evidenza gli effetti positivi per l'accoglienza ovvero per gli alberghi la difesa del pianeta si decide qui e adesso l'appello di Pesaro città sostenibili in occasione del giorno della terra l'Earth Day tre giorni di iniziative stasera il dibattito sulla cura della casa comune poi letture passeggiate ed escursioni e non c'era più fotografia adatta idonea indovinata di questa quella che ritrae il parco del Mirafiore con la pulizia radicale del Sottobosco compiuta appunto recentemente per esemplificare questo desiderio di avere una città più vivibile più in sintonia con l'ambiente più in sintonia con il futuro della terra la difesa del pianeta del pianeta si decide qui e adesso aiuti contro il caro bollette via le domande ecco chi può e come può accedere ai fondi da 500 a 1000 euro erogati dall'amministrazione comunale e poi ancora la cronaca spariscono dalle casse 82 mila euro condannato il ragioniere della ditta si tratta di un sessantenne che è recidivo un anno e otto mesi multa e restituzione del malloppo è stata la sentenza del giudice era il ragioniere di una officina meccanica oltre a prelevare dal conto dell'azienda i soldi dello stipendio avrebbe preso anche importi simili e si li sarebbe intascati con l'accusa di truffa è finito a processo appunto un uomo di 60 anni e poi vediamo ancora la cronaca in quest'altro articolo sulla pagina di Pesaro furti in serie incidente e un'evasione patteggia tre anni di carcere e va in cella era l'ultima notizia a questo punto Massimo Foghetti vi saluta e vi dà appuntamento domani alle ore 7 per le notizie del giorno questa sera alle ore 20.30 in occhio alla notizia il Tg condotto dal direttore Marco Ferri e questo è tutto a risentirci di Pesaro e questo è tutto